è il nevato marzo? si iniziamo grande guarda che fa le picche non ci hai sentito? si ti chiesto cosa? che pro sono quasi arrivato porca puttana genzo, bellissimo ti stimo voglio fare sempre un po' troppe cose eccole Mijan Barnabas è scappata oh lo sapete tutti me lo vogliono fare david stanno guardando dei vecchissimi filmati io da bimbo mentre sarei in vacanza e la cosa non mi piace affatto perché mi sento abbastanza deriso non mi piace ahahahahahahah ahahahahahahah guarda DO IT JUST DO IT JUST CHIAPRA 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 ok ok a re allora zì oggi abbiamo fatto un bel tour da Ponte d'Era a Firenze a sesto adesso trattiamo a Ponte d'Era a 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 t 1 2 1 Laichina, bellina che bella, guardate che tesoro, che tesoro di cala, bella sei, bella, bella, bella. Chiafra, verso i miei zii, che carogna, che vacche. E' questo, Tori. Capiamo il secondo. Cazzo. Ma sono i soldi a vedere? No. Ma che... Madonna. La testa è vera, l'ha staccata a qualcuno. Aspetta, ma sta mettendo le canzoni su da YouTube, in questo modo. E' un genio. Io e venuto su, penetrando nel trash. Sono i tutorial che ti servono, è vero. Quella lunghi. Per pettinare le bari. È già un piscio. Non so se ti faccio. Già abbiamo dei ciocchi che... Dei ciocchi. Dai, lo su commento siete grandi. E' il più flippato del potese. Fama del cazzo, perchè torno. Si uguale Porco cazzo Porco cazzo Merdoso Sei boccato Ok Fiume Via porca puttana Via porca puttana No le voglio sentire queste Arrapato Che cazzo